... ... ... ... Senomale che questa non era la calamità, ma non è successo nulla, è tutta qua. Monica Picca, ci troviamo di fronte a tutti, la calamità naturale. Beh, credo che queste immagini parlino chiaro. Noi ieri abbiamo appunto cercato di notare un documento che mettece in evidenza questa criticità che vediamo e che per noi è calamità naturale, se non è calamità questa, volete che ci spiegassero quali sono i criteri per cui si identifica una calamità naturale. Abbiamo portato un documento, una posizione, in consiglio in cui chiedevamo appunto che venisse istituita una calamità. Poi chiaramente successivamente andremo avanti con un consiglio straordinario in cui si inviterà la regione, l'assessore e tutti gli organi competenti affinché prendano atto che il litorale romano è un litorale da valorizzare, da rilanciare e non da abbattere. Fino ad ora la politica 5 Stelle non ha fatto altro che abbattere i mari di Roma e cercare di portare avanti, secondo noi, una politica strideriata. lo hanno fatto anche ieri in consiglio municipale astenendosi da un documento che era assolutamente un atto dovuto per il bene di questo litorale, per il bene del territorio, per il bene di quella categoria che valorizza il mare di Roma, il litorale, il nostro municipio e che è un bene inestimabile che va assolutamente rilanciato. Senatore William Devecchis, ci troviamo di fronte ad un problema ormai cancredito. Il cancredito è, come sapete, che sono ripetito questo problema che è fatto da precedere e arriva ad ossia, ma per il bene di tutto il litorale. Un problema che abbiamo portato anche al Senato, perché grazie all'intervento di Monica Ficca abbiamo presentato un emendamento al Senato che ovviamente ha peccato l'articolo, perché non ci sono i punti, ora ci saranno degli interventi, cercheremo di trovare delle soluzioni perché non possiamo far naufragare, nel senso della parola, il litorale romano perché non è competente, noi ci batteremo per portare a casa dei risultati e dal naufragio degli emendamenti per far guardare la costa del litorale passeremo al rilancio del litorale, perché c'è un progetto che stiamo portando avanti con Monica Ficca di Ossia, il litorale romano più vicino con il cancredito risultato della capitale. Grazie.